buongiorno 704 in anticipo rispetto al solito e grazie grazie all'ufficio programmazione per avermi fatto dormire quattro minuti in meno no qualche minuti in meno perché questo perché anche ieri sera qui a sanremo è andata lunga ma facciamo le cose con criterio allora buongiorno a tutti oggi è venerdì 9 febbraio io sono fabio ranfi qui in diretta da sanremo sotto una pioggia scrosciante fa un po forse la sentirete anche perché sta veramente piovendo fortissimo vi diamo il benvenuto a un nuovo puntata di good morning sanremo eh sì è ancora un altro giorno qui eh il venerdì venerdì è una delle serate più attese quella dei duetti questa sera ci saranno i famosi duetti e quindi staremo a vedere no che cosa arriverà sul palco dell'arison io grandissime aspettative ah sì sì grandissime grandissime aspettative voi siete pronti popcorn divano e pronti a seguire questa serata 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 comunque io vi chiedo scusa perché sono le 7 5 mattina stiamo parlando di sanremo e fino a stanotte quando andrete a letto sentirete parlare di sanremo ovunque vi giriate se state sul tram se state in macchina se state al lavoro secondo me anche se state a casa ancora ritornate a dormire chiudete gli occhi sognerete sanremo c'è poco da fare questa settimana quella lì molti la chiamano la settimana santa quindi vedete voi e c'è sanremo sì e c'è anche alfa che canta a sanremo ma lo sappiamo fare bene lì ce l'ha fatto fare anche alfa dal palco dell'arison quindi insomma abbiamo imparato come si fa il uh uh il uh uh sull'area perché c'è colleghi che quest'ora ancora dormo qui nella casa e anzi grazie mille che al 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 arrivano i messaggi perché siamo qui e quindi abbiamo bisogno dei vostri dei vostri messaggi comunque allora al 3 1 7 8 5 3 5 5 5 un saluto a tutti i cristallini e buon weekend grazie mille alberto e un saluto particolare a fabio con una domanda ma quando dormi ecco allora alberto non posso lamentare in realtà perché poi alla fine riesco a dormire ieri sera andato a letto intorno all'una e mezza stamattina andato alle 6 sveglio quindi a me qualche ora si porta a casa senza problemi il problema sono i miei colleghi che magari arrivano anche più tardi di me siamo qui nella stessa casa e lo studio è attaccato alle stanze dormi non è che posso proprio fare lo show infatti nella seconda ora sono più arzillo non tanto perché mi sveglio quanto per il fatto che alcuni di loro si svegliano fanno un po' di rumore quindi riesco a farmi coprire dagli altri colleghi che sono qui con noi nella casa in cui abbiamo il nostro studio qua in Viale Mazza a Sanremo mi hanno sentito Alfa e ieri Alfa è salito sul parco come presentatore e quando sono saliti è salito sul parco presentando Maninni due destini incrociati entrambi arrivano da Sanremo giovani uno non è riuscito ad andare a suonare poi alla finale l'altro era ammalato non mi ricordo quali dei due comunque sta di fatto che ora ci sono riusciti la morale di questa storia io non la so ma Amadeus ha voluto dire questa cosa qui dal parco ve la ripeto non ho ben capito dove volesse arrivare qual era la morale finale forse è boh ti mi duro prima o poi ce la fai forse è quello sta di fatto che entrambi arrivano dal mondo dei Sanremo giovani chi prima chi dopo dove uno ha anche vinto l'altro non è riuscito invece ad arrivare alla finale di Sanremo giovani e tutto sta di fatto che comunque poi corsi e ricorsi nonostante la giovane età hanno avuto una seconda opportunità un secondo treno che è passato e li ha portati a Sanremo un treno per Sanremo altro che il treno per paradiso città l'area componente dei giovani era molto forte anche ieri sera dei giovani che non vuol dire solo Sanremo giovani ma anche quelli che arrivano dai talent e così e devo dire però scusatemi se mi permetto che la serata di ieri forse era un pochino più debole rispetto alla serata precedente più debole più tanto per i nomi non tanto perché infatti abbiamo visto comunque oltretutto se ci pensate che la top 5 che dopo andiamo a leggere perché adesso me la do però dico dopo dentro ha nomi completamente quasi tutti nuovi rispetto alla top 5 della prima sera dove erano suonato tutti i 30 e invece quella di ieri era invece piena di gente che era nella top 5 del 4 quinti della top 5 erano presenti ieri sera ok della prima sera avete capito una prima sera seconda sera c'era c'era una scuola avete capito bravissimi un pochino più debole ieri devo dire la verità e se ne siamo accorti anche noi guardando la puntata la noia pervadeva un po' tutto e non è che era solo la noia della cumbia cioè non era solo la cumbia della noia di Angelina Mango era proprio che c'era un po' di stanca come dire che si sentiva nell'aria però 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 alla fine comunque siamo riusciti a arrivare al risultato finale soprattutto grazie alla fantastica Teresa Mannino lei è stata proprio la killer app è stato veramente quello che ha fatto svoltare la serata e invece voi come siete messi a Milano? sentiamo un po' come va il traffico luce verde? i santi francesi direttamente da Saremo Giovani e direttamente da X Factor ricordiamoci perché anzi santi francesi che salgono sul parco dell'Ariston introdotti, presentati da Clara e quindi ancora una volta un duo di giovani perché si entrambi arrivano da Saremo Giovani Clara appunto li presenta Amadeus dice ah ma vi ritrovate qui dopo Saremo Giovani e il cantante dei santi francesi dice sì ma almeno tu lo hai vinto cioè mi fa ricordare che tu che l'hai vinto invece loro no dimenticandosi però che comunque loro non hanno vinto Saremo Giovani ma hanno vinto la sedicesima edizione di X Factor nel 2022 quindi insomma non parlare di tutto rispetto anche per i santi francesi canzone dai suoni dei santi francesi abbastanza elettronica ma forse ripeto mi aspettavo molto molto di più dai santi francesi i giovani dei canzoni nuove la cosa bella è che insomma ci sono anche tanti artisti che fuori da Saremo producono musica nuova e la distribuiscono anche in questi giorni ieri era appunto il Radio Day Radio Date cioè la giornata in cui si può in cui escono appunto alcune canzoni hanno un Radio Day cioè il giorno in cui tutta la canzone esce e può andare in radio ieri è stato questo per Giorgia Maria Sara un'artista emergente che insomma è proprio appena uscita con i suoi primi brani ne sentiremo parlare nei prossimi mesi ma 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 possiamo sentire la sua nuova canzone intanto grazie mille ad Alberto ancora che arrivano domande al 3317853555 allora io adesso vi faccio sentire la nuova canzone di Giorgia Maria Sara che si chiama Corro ma poi rispondo alla domanda di Alberto che mi chiede dopo tre serate quale podio ci sarà secondo te ne parliamo dopo perché c'è un podio secondo me ormai abbastanza delineato e sul sul corriere di questa mattina c'è anche un'intervista a Rob Sinclair che secondo me fa capire da che parte andremo ma prima di tornare a Sanremo ascoltiamo appunto Corro così è grazie per aver messo tutte queste errori il titolo comunque grazie mille a Giorgia Maria Sara che ha messo Corro come titolo del suo nuovo brano che ascoltiamo adesso qui su Crystal Radio a Good Morning Sanremo e allora vai Giorgia Maria Sara con Corro 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 con Giorgia Maria Sara alle 7.21 minuti qui su Crystal Radio beh si può essere emergenti oppure giovani anche a 39 anni lo dice la canzone non avrei mai fatto il caffone dicendo l'età di una signora in questo caso mamma ha migliorato la signora se ci sente questa volta qui ce la siamo scavata la forza è comunque interessante che anche appunto si possa iniziare una caniera non solo passando dai parchi di Sanremo non solo avendo 19-20 anni ma anche magari in una seconda idea di vita che si può fare anche più avanti e insomma far passare i propri pezzi anche nelle radio deve essere una grandissima soddisfazione anzi ne hanno parlato ieri anche in conferenza stampa gli artisti di Sanremo perché col fatto che vota la radio quest'anno gli si continua a fare domande sulla radio ovviamente tutti gli artisti che secondo me non hanno mai ascoltato la radio perché sono di una generazione che a volte non l'ascolta tantissimo o che ascolta solo quando ripassano le proprie canzoni cioè usano la radio un po' in modalità Spotify dicono cose bellissime della radio io la radio tutti i giorni vivo insieme alla radio le ascolto otto in contemporanea le ascolto in stereofonia una radio sulla cuffia sinistra e un'altra radio sulla cuffia destra per avere tutto il panorama musicale ecco no ci giocano un pochino fanno un po' i ruffiani con noi delle radio gli artisti di quest'anno però è interessante che anche loro continuano a dire ma soprattutto la radio ci dà sempre quell'emozione pazzesca di sentire il nostro brano passare così in un flusso radiofonico in un autoradio anticipato dal racconto dello speaker annunciata o disannunciata l'ho imparato anche grazie ai cantanti conduttori a imparare questo disannuncio quando finisce una canzone l'annunci quando è finita l'annuncio postumo che è la roba lì comunque i cantanti hanno detto in più momenti e non vi faccio l'elenco perché tantissimi l'hanno detto dai più giovani anche a quelli meno giovani che l'emozione di quando sentono una propria canzone uscire dalle casse dell'autoradio o così mentre sono in casa sentire la radio che passa al proprio brano è sempre un'emozione indescrivibile quindi niente a che fare con magari i vari stream che avvengono sulle piattaforme come Spotify Apple Music e tutte quelle altre oltretutto su cui poi sappiamo che si è aperta tutta una critica in questi giorni su quanto effettivamente si guadagna facendo gli ascolti su queste piattaforme ricordiamo qualche settimana fa che si era stato una detrima proprio sul su quanti soldi si possono fare e c'era che aveva fatto 12 euro facendo semplicemente Anna Castiglia aveva fatto questo posto dimostrando che con quasi 50.000 ascolti era incassato in realtà DCA è solo 12 euro una cosa del genere ma quindi effettivamente una pizza per 50.000 ascolti insomma un sbattimento niente male comunque complimenti a tutti coloro che in questi giorni sentiranno le proprie canzoni passare alla radio chissà se anche i mostri sacri si emozionano ancora oggi quando sentono i propri pezzi passare sulle radio chissà se il prossimo pezzo è veramente di un mostro sacro chissà se lui quando era in vita e quando produceva le sue canzoni uno chissà se ascoltava la radio ma credo di sì conoscendo un po' il mood del personaggio e chissà se si emozionava quando magari sentiva arrivare quelle cose che faceva un po' avete capito chi è? no non l'ho fatta bene effettivamente non l'ho fatta benissimo e chiedo scusa anzi non era molto rispettoso perché sto parlando di lui MJ no non Michael Jordan ma Michael Jackson 7.25 minuti ci fermiamo per pochissima pausa poi torniamo ancora qui sempre qui su Good Morning Sanremo e ora Michael Jackson Junior Russo un'estate al mare io sono al mare in questo momento effettivamente non è estate ma sono al mare perché sì sono qui a Sanremo a raccontarvi il festival della canzone italiana e a raccontarvi un po' tutto quello che succede poi promesso oggi è venerdì anzi non ho ancora detto thanks god it's friday non ho ancora detto perché Sanremo non è venerdì perché il venerdì di Sanremo è il sabato domani quando finalmente arriveremo alla finale finalissima poi domenica potremo dormire più o meno perché poi domenica c'è il treno per tornare a Milano ragazzi 5 ore di viaggio per tornare perché dobbiamo cambiare ad Albenga io non avrei mai pensato in vita mia di dover dire questa frase tipo ehi scendo ad Albenga e poi cambio treno ad Albenga e invece succederà non me ne vogliono gli amici di Albenga è un saluto agli amici di Albenga ma sarà così voi avete mai pensato nella vostra vita di dire faccio scalo ad Albenga non faccio scalo a Doha ad Abu Dhabi a Pechino no faccio scalo ad Albenga vabbè comunque Alberto mi ha chiesto e non l'ho risposto quindi forse sarebbe meglio anche rispondere perché dovrò mandare lecito rispondere cortesia soprattutto quando stai facendo una trasmissione radiofonica e ci sono gli ascoltatori che ti scrivono Alberto mi chiede Fabio dopo tre serate quale podio ci sarà secondo te allora a me lo sono scritto perché tra pazzi ragazzi io non ho ancora imparato a riconoscere alcuni artisti tra di loro ma ve lo dico anzi premessa su tutto questo perché ci tengo a dirlo soprattutto perché in questi giorni sto lavorando con dei grandissimi professionisti del giornalismo musicale italiano io non sono un giornalista musicale quindi sto imparando anche sto imparando anche da loro a staccare quello del mi piace non mi piace quindi a me piace la mannoglia e mettere la mannoglia nella top 5 no non la metto perché piace a me devo capire grazie a loro lo sto cominciando a comprendere pian pianino che cosa può o non può neanche piacere funzionare per il pubblico perché quello cioè bello o non bello lascia il tempo che trova funziona o non funziona avrà un successo avrà un futuro o no discografico sono queste le domande che un giornalista musicale si deve fare io ripeto non sono un giornalista propriamente musicale parlo di tutt'altro vi racconto delle fontanelle di Milano dello stadio di San Siro delle diatribe del consiglio comunale il mio comfort zone e quella roba lì l'ho studiata anche diciamo in questi anni quindi insomma sto imparando a migliorare sempre di più per raccontarvi il territorio e la città ma in questo caso sono anche chiamato a raccontarvi un po' di musica e quindi cerco di farlo con molta parsimonia e soprattutto ascoltando gli altri quindi io davvero ringrazio tantissimo i professionisti in primis Alex Pierro presidente dell'associazione giornalisti critici musicali italiani perché sto imparando tantissimo in questa esperienza sanrenese ed è bellissimo all'età di 43 anni continuare ad imparare davvero una cosa stupenda e ho imparato quindi che bisogna stare anche ad ascoltare gli altri per capire da che parte in che direzione potrebbe andare questo festival di Sanremo poi virgola punto virgola abbondiamo mettiamo nei due di virgole e due punti anche personalmente mi sono fatto un po' un'idea e io penso che allora terzo posto più o meno secondo se lo giocano Annalisa Annalisa secondo me arriverà sul podio Angelina Mango perché secondo me ha fatto veramente un bel lavoro e ha anche davanti a sé una possibilità di carriera e di sviluppo del progetto Angelina Mango chiamiamolo così al primo posto non so se direbbe inaspettatamente oppure forse c'era da aspettarselo io la dico anche brutta e male mi spiace per il diretto interessato anche un po' spinto dal momento che vede Mare fuori come momento positivo sulla cresta dell'onda Joglier secondo me sarà la grande affermazione di questo Sanremo e forse rivelazione di questo Sanremo non so non so quanto però abbia poi un futuro passata la quarta quinta sesta stagione di Mare fuori non so effettivamente legarli insieme è un po' ingiusto nei confronti dell'artista Joglier però faccio veramente fatica a staccare questo momento così forte legato con l'hype legato così forte a Mare fuori dall'artista appunto Joglier ce n'è un'altra secondo me che potrebbe insidiare un attimo ma non si capisce bene io credo che l'abbiamo vista un po' sottotono allora forse è questa la verità sto parlando di Alessandra Amoroso la canzone dopo l'ennesimo ascolto devo dire bella canzone ma lei sottotono non lo so o forse non è più non ha più forse quello quello smalto non so c'è qualcosa che non convince perché la canzone se voi la immaginate cantata da altre artiste io continuo a ripetere una stuta è Malika Yan Malika Yan e se cantasse quella canzone sarebbe tutta un'altra storia e invece c'è qualcosa che non riesce a partire con l'Amoroso però vi ripeto ecco qui si incomincia ad avvicinarsi al secondo me il mio gusto personale e allora posso dire la verità se qualcuno alle 7 e 39 del mattino di un venerdì di febbraio da Sanremo in diretta su una radio FM vi parla di a me piace o a me non piace beh quella persona ha sbagliato mestiere e quindi io non voglio scendere e cadere in questa trappola e dirvi invece che secondo me insomma quel trio che vi ho detto Giuliette Angelio Mangue e Annalisa potrebbe essere quella che il pubblico potrebbe andare a premiare poi abbiamo appunto questa Alessandra Amoroso che potrebbe essere la quarta in comodo e anzi adesso ce ne andiamo ad ascoltare fino a qui Alessandra Amoroso Alessandra Amoroso allora ieri sera sale sul palco presentata da Darjen se non ricordo male sì appunto sale presentata da Darjen d'amico e beh allora Darjen è pronto per la conduzione c'è poco da fare cioè secondo me io un programma Darjen magari musicale potrei pensare posso dirvi che un top of the pops se tornasse fatto da Darjen avrebbe secondo me un grande senso comunque ve l'ho detto lei si diverte ieri sera si è divertita mentre si esibiva è stato bello vederla che si è divertita o meglio io quando dico divertire anche se la canzone magari non è divertente si vede che l'artista la prende bene si rilassa la fa sua la fa proprio bene sciolta peccato però che secondo me il problema di Alessandra Amoroso è che è sempre la solita esibizione cioè quella roba lì lei è brava a farlo ma è sempre quella roba lì e invece 3317853555 è arrivato un whatsapp da Erika che dice buongiorno e buon venerdì a tutti la domanda che però ci stiamo facendo da ormai qualche giorno è questa quanta focaccia stai mangiando Fabio pensate di focaccia focaccia pura due pezzettini e basta eh sì due pezzettini ieri in una buonissima focacceria davanti praticamente all'Ariston ma solo due pezzi molto molto buoni due pezzi no perché in realtà anche qui ci ricolleghiamo anche a Joliet è scoppiata la Napolimania c'è proprio da fare ci sono pizze ma pizze napoletane quelle fatte bene ognunque cioè pensate che noi dentro a Casa Sanremo Sala Stampa Palafiori c'è Casa Coca Cola che tutti i giorni sforna pizze originalmente proprio originali di Napoli c'è proprio lì un pizzaiolo tutta una compagnia di pizzaioli con un forno e tutto che cacciano fuori pizze ma di livello non vi ho detto cosa è stato ieri sera prendiamo le cose con calma prima invece ho detto prima di Joliet appunto vanno i Napoli e fai questo effetto Napoli e tutto Joliet ne sta raccattando su proprio i frutti nel senso che sta veramente portando a casa grandi risultati tra cui roba pubblicata poche ore fa su Repubblica quasi su Corriere Corriere della Sera sui social un endorsement proprio una raccomandazione un raccomandato a Joliet ma sapete da chi? da Bob Sinclair alla domanda con chi fereste una collaborazione con i cantanti di Sanremo lui risponde Joliet io lo farei con Joliet al momento il re è lui poi adesso penso che il re è lui sia perché in francese suona bene le roi c'è il c'è il non so come si dice comunque una cosa del genere le roi le roi Joliet le roi quindi funziona bene così però sa di fatto che Bob Sinclair non ha detto mai il mio nome in vita sua a meno che abbia un amico che si chiama Fabio in un certo punto l'ha chiamato ma non credo abbia mai detto la parola Fabio in vita sua forse da Fazio grazie Fabio Fazio ma ha detto invece Joliet quindi vi fa capire questo in più dice anche io sono un grande fan del Festival di Sanremo ma soprattutto mia mamma mia mamma è una grandissima fan del Festival di Sanremo e quindi famoso anche anche all'estero appunto ma mi stavo dicendo dove siamo andati ieri sera tra ieri dj da Bob Sinclair a dj francesco ieri sera siamo stati a Sanremo si premio di novella 2000 che da qui a Sanremo ogni anno e di Milano award si chiama così e oh c'era Fachinetti che ha presentato ha detto un po' le sue cose c'era anche Susanna Messaggio insomma tanta tanta fauna come l'ha chiamata dal mio collega Alex di quel mondo di quel sottobosco che girava lì ebbè 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 l'ora da una verte pazza l'ora da una verte anche ieri sera è stata veramente interessantissima la sua salita sul palco per presentare il 3 momento molto carino per molti anche se a me fa sempre un po' ridere perché nel senso questi ragazzi salgono su con questa sicumera con questa sicurezza che in realtà è tutta finta ma ci sta vent'anni non essere sicuri di salire su quel palco con questi è l'immaginario che ci siamo fatti in testa perché noi vediamo i tatuaggi vediamo le acconciature particolari questo modo un po' così di uomini e donne che le hanno passate tutte e poi dal palco ciao mamma ok in realtà poi il problema è il percepito da noi effettivamente perché poi tu vai a leggere ad esempio il testo del 3 che è stato presentato da Loredana Bertè ieri sera sull'Ariston la canzone fragile ed è un testo molto interessante dove lui porta fuori le sue fragilità dove lui parla dei demoni che ha dentro di sé e di questa persona che dall'altra parte invece lo aiuta e lo aiuta a uscire da quella situazione persona che potrebbe essere anche la mamma ad esempio però fa sempre un po' sorridere questa cosa che arrivano lo vedete Sid Vicious dei Sex Pistols che sale sul palco e poi saluta la mamma o i Rolling Stone o gli Eurom i Kiss vedete i Kiss che salgono sul palco e quindi fa un po' specie in realtà è stato un bel momento in sala stampa c'è chi si è commosso mi ha fatto partire anche l'applauso lui ha poi fine canzone ha preso il mazzo di fiori l'ha portato la sua mamma gliel'ha regalato la Bertè dal palco ha detto complimenti signora ha fatto un bravo figliolo o qualcosa del genere poi non parla così la Bertè però avete capito il concetto qual era un momento familiare ha fatto molto Sanremo e molto famiglia vi ripeto girandomi e vedendo i miei colleghi le mie colleghe in sala stampa molti avevano gli occhi lucidi e gli hanno detto quella tipica frase ah che carino così ok tutti maschi e femmine non c'era distinzione in questo caso tutti dire che carino vabbè comunque mi ha fatto un po' special perché lo vedi arrivare sembra David Bowie incazzato e invece non è così comunque niente niente di contrario anzi complimenti a Il3 per la sua performance di ieri sera che lo ha fatto entrare anche nella top 5 della serata tra parentesi non so se avete capito la cosa interessante è che da ormai un anno e passa siamo in diretta con Good Morning Milano tutte le mattine le canzoni le musiche e spesso e volentieri i cantanti sono sempre quelli a volte ci sono delle canzoni che tu tutto l'anno metti in onda abbiamo avuto Italo Disco non vogliamo parlare doveva arrivare Starremo per togliercela per mettere quella nuova il concetto è quello ma non so Annalisa abbiamo avuto i tormentoni questa roba qui e c'era un gruppo che mettevamo sempre che erano i pinguini tattici nucleari cioè è arrivato Starremo li ha tirati via basta è come se non esistessero più come è possibile sono due anni che non facciamo altro che quasi tutte le mattine metterli e a un certo punto così dal giorno con la notte scompaiono dal radar perché è arrivata la musica nuova ma anche secondo me poi in realtà potrebbero benissimo ritornare a breve nel senso che poi insomma non sono così facilmente scansabili e anzi allora proprio perché è un po' che noi ascoltiamo li rimettiamo quest'oggi e allora andiamo con i pinguini tattici nucleari dal 2020 con Ridere eh sì io non ci voglio un po' che non sentiamo dai pinguini a voi e noi torniamo fra poco ciao 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 i pinguini tattici nucleari che praticamente un giorno in giorno no li mettevamo vuol dire che veramente è una roba potente tutti perché l'anno fa lo slogan era tutti cantano Sanremo effettivamente così tra parentesi un'altra cosa che è sobra ruota in questi giorni è il famoso riff no na 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 la Rai non lo usa più la Rai non lo usa più non viene mandato in onda durante la trasmissione non se ne fa mai accendo non c'è neanche se andate in giro a sentire se non c'è qualche qualche roba di diritti d'autore che non sappiamo copyright che non sappiamo ma è bellissimo sentire come ad esempio suoneria del telefono di alcuni colleghi suonare al telefono e senti na 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 gente che la canticchia sulle scale mobili perché Sanremo è Sanremo così cioè è quella roba che è rimasta è dal 95 quel 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 jingle e ancora oggi pensate continuiamo a cantarlo e a suonarlo viola ti chiedo a te a Milano te lo ricordi tu questo na 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 fai sì o no con la testa che ti vedo in diretta da da Milano non te lo ricordi na 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 no non te lo ricordi ah vedi ecco viola la nostra producer che da Milano fa la parte di coadurazione di questa diretta qui da Sanremo invece non se la ricorda vedi quindi è bene le cose cambiano effettivamente allora viola facciamo così secondo me invece questi li conosci lei si chiama Elodie lui si chiama Spera e basta e la canzone è anche stasera e quindi sapete che vi dico che anche stasera saremo ovviamente lì a raccontarvi Sanremo e raccontavolo anche con la sala stramba che cos'è dopo ne parliamo adesso Spera e basta ed Elodie Spera e basta ed Elodie 8 e 14 minuti Crystal Radio Good Morning Sanremo sempre qui per raccontarvi un po' quello che è successo ieri sera per parlare delle top 5 top 10 insomma tutto quello che ci arriva dal palco io poi mi sono preso anche tutti i miei vari appuntini sulle uscite dei vari dei vari personaggi che sono passati sul palco ieri sera appunto durante l'esibi durante la terza serata del feste di Sanremo serata che vi ho detto un po' quella più di stanca diciamoci la verità però insomma alla fine mi hanno tenuto a grazie anche a Teresa Mannino che ha tenuto molto molto bene il palco ci sono state varie uscite che sono state un po' interessanti ad esempio a un certo punto siamo tornati indietro nel tempo con i baci e sì e sì perché sapete ogni anno c'è qualche bacio e allora dopo Baudo e la Letizetto dopo Fedez e Rosa Chemical questa volta è il turno di Emma e Giuliano e di Negra Maro e sì si sono dati un bacio in bocca in diretta internazionale anche se per dovere di cronaca dobbiamo comunque ricordare che anche Achille Lauro il suo chitarrista si baciarono Eludi e Big Mama anche i Baglioni e la Bertè questi sono alcuni dei baci che insomma abbiamo visto in questi anni sul palco dell'Ariston baci che sono passati diciamo nella storia del festival e del racconto proprio di questo festival anche se ce n'è uno da milanese devo dire a cui sono più affezionato era il 2021 e loro sono una coppia e portavano una canzone che ci ha fatto capire il fuoco le fiamme che possono nascere soprattutto negli occhi tra due innamorati Comacose fiamme negli occhi 2021 Comacose fiamme negli occhi 2021 wow ce lo ricordiamo come fosse ieri è stato bellissimo vederli cantare con quella dinamica e infine quel grandissimo bellissimo bacio dato sul palco dell'Ariston ma andiamo a vederli loro uno alla volta questi artisti che sono esibiti ieri sul palco e i loro colleghi cantanti per l'occasione invece presentatori abbiamo detto che ha aperto il 3 presentato da Loredana Bertè con tutto separato sulla mamma seguito poi da Mannini presentato da Alfa di cui abbiamo già parlato dei loro due destini incrociati non hanno potuto suonare quando era il loro momento ma in realtà poi il treno è ripassato poi sono stati i bunker 44 presentati da Fred De Palma qui niente l'unica cosa che mi viene da dire è non ce la facciamo continuano a zompare sul palco da una parte all'altra senza una meta mi viene da dire ne abbiamo persi dopodiché sale Clara a presentare i santi francesi e quindi il momento saremo giovani la fincitrice dell'ultima edizione del fantasy scusate saremo dei giovani saremo giovani scusate Clara che incontra i finalisti di saremo giovani i santi francesi vincitori dell'edizione 2022 di X Factor poi ci sono il volo il volo sale sul palco per presentare Mr. Rain ma sembra che debbano cantare il terzo atto della Carmen sempre impostati i tre ragazzi forse forse anche un po' troppo dopodiché è il momento di presentare Rose Villain che appunto dovrà cantare la sua canzone e a quel punto sale gazelle sul palco che lo vediamo quasi intimorito dalla bellezza statuaria di Rose Villain e grazie perché tanti poi punti al Fanta Sanremo con la matita ricordiamo che 20 punti bonus ieri sera a chi portava una matita sul palco dell'Ariston perché per una pensate una collabo in questi casi tra il Fanta Sanremo e niente poco di meno o poco di meno che la Unione Europea per ricordare di andare a votare alle prossime elezioni europee dopo di che il momento di Darjean che come dicevo a questo punto è pronto per la sua conduzione di qualsiasi trasmissione meglio se fosse musicale e l'Amoroso con la sua solita esibizione bella canzone ma la solita esibizione dell'Amoroso dopo di che sempre un'altra matita sale sul palco grazie a Big Mama a look da paura ieri sera per Big Mama ma nulla in confronto al look total pink dei ricchi e poveri che si possono permettere davvero tutto 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 Angela è completamente fuori controllo oramai avete visto è un meme vivente diciamo ma se i più giovani avessero anche solo la metà la metà della sua energia eh sì dopodiché è il momento che Irama sale sul palco e presenta Angelina Mango Angelina fa infiammare l'Ariston e poi la mossa la mossa che fa lei che mi piacerebbe far male insegnare è sempre più apprezzata e perfezionata anche dalla cantante questa cumbia della noia sicuramente fa tutto tranne che annoiare abbiamo detto appunto di Big Mama dei ricchi e poveri è stato un momento davvero alcuni direbbero davvero trash ma in realtà no quello è saper fare spettacolo anche all'età i due angels io continuo a dire che devono cambiare nome perché siamo Angela e Angelo Angelo e Angela quindi non sono più i ricchi e poveri ma sono di i The Angels secondo me era bello chiamarsi così comunque gli angeli in pink ieri sera hanno fatto spettacolo e l'hanno fatto presentati da una fantastica e sbalorditiva Big Mama Fiorella Mannoia Mariposa ecco qui il giornalista non è capace di fare il suo mestiere direbbe la più bella canzone di Sanremo no allora secondo me una delle più belle canzoni di Sanremo secondo me bellissima e meriterebbe di vincere secondo me ma non è detto che ce la faccia nel senso nella mia mangiacassette metterò la cassetta di 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 Friar la Mannoia ma non è ecco parlare di musica è una cosa diversa non è parlare di cosa ti piace e cosa non ti piace posso invece dire cosa mi è piaciuto cosa mi è piaciuto delle uscite dei vari presentatori delle esibizioni e raccontarvelo per sapere cosa voi avete pensato di quello che è successo ieri sera sul palco dell'Ariston 3317853555 allora andiamo avanti siamo arrivati alla decimo cantante di Odato presentato dai The Colors sapete che io mi segno dei commenti a caldo durante le esibizioni ho una tadella che vado a compilare l'unica cosa ho scritto tre lettere boh così basta questo è quello che ho scritto sulla esibizione di Odato con i The Colors con la domanda famosa attenzione Diodato che secondo noi è bravissimo ma secondo tutti quanti è davvero bravo voce pazzesca controllo vocale tutto quello ma la domanda che ci siamo fatti tutti è ma tu ci andresti a un concetto di Diodato? è questo tu ci andresti se ci volete andare 14 luglio a Varese questo me lo ricordo il 23 giugno non mi ricordo dove c'è anche il 23 giugno ma non mi ricordo dove lo faceva se lo faceva a Roma comunque il 14 luglio è a Varese Diodato dopodiché è salito Mahmood che ha presentato Gali quindi una presentazione molto molto Good Morning Milano il grattosoglio che presenta Baggio Gali grande interpretazione ieri sera davvero sentita molto molto emozionante e lui molto sciolto ma emozionato forse fin troppo perché Gali va bene tutto ma il passo alla Michael Jackson alzando il piedino e il ginocchio anche no so che è un tuo grande mito il guantino bianco era quello però dall'essere il grande artista a diventare la macchietta e il sosia di qualcun altro insomma il rischio è molto molto alto quindi anche meno da quel punto di vista Gali anche perché posso dire non hai nulla da provare a fare altro cioè tu sei già qualcosa di buono sei già qualcosa che funziona perché allora non essere se stessi da quel punto di vista soprattutto con una canzone davvero interessante come quella presentata da Gali qui sul palco del del festival di Sanremo dopodiché dopo Gali sono saliti invece Emma è salita Emma a presentare i Negramaro con tutto quello che ne concerne baci non baci e tutto quanto dopodiché Anna Lisa presenta in maniera abbastanza sciolta tranquilla Fiorella Mannoia e poi salgono su il duo di Pazzerelli che infatti anche la canzone si chiama Pazzo di Te quindi ci mancherebbe che sono Ringa e Necca sono sempre abbastanza ingestibili quando sono insieme perché pensano di essere al pub a bersi una birra insieme invece una volta sono sicuro quello che sono sul palco di Sanremo presentano appunto San Giovanni che fa la sua esibizione tranquillo e poi chiudono Joliet che presenta i Lassad che hanno fatto anche un momento interessante dove un padre abbracciava una figlia dicendo i rapporti umani si possono sempre recuperare quindi un altro messaggio interessante da i Lassad ho parlato di Rek e Nenga Rek e Nenga scusate Rek e Nenga andiamo a sentirvi allora con Pazzo di Te qui su Crystal Radio Good Morning Sanremo Nek e Ringa Nek e Ringa sono al Fanta Sanremo stavo dicendo che stavo guardando al Fanta Sanremo ma in questo momento ovviamente dovevo leggervi i risultati non è attivo in questo momento il Fanta Sanremo molto bene stanno perché stanno aggiornando i punteggi quindi chissà che magari entro la fine della puntata riusciamo a darvi i risultati aggiornati no chissà comunque ieri sera è molto interessante questo bonus da 20 punti che si poteva ricevere se il proprio artista in squadra portava la matita se non sbaglio appunto due o tre l'hanno fatto quindi è stato molto molto interessante matita sul palco 20 punti bonus per dire che cosa per dire di ricordarvi a tutti quanti ricordarci a noi altri di andare a votare alle elezioni europee ovunque voi vogliate mettere quella X però andate perché se no poi quando vi lamentate quando dite ah ma non funziona niente tutti un magna magna tutti uguali destra sinistra quelli lì uno vale uno non puoi dire niente non puoi dire niente non ci provare cittoli non puoi perché non sei andato a votare beh a votare puoi lamentarti quanto vuoi puoi farmi rompermi i maroni lagnarti tutto il giorno dicendo guarda te sono tutti uguali io che sono anche andato a votare e poi loro fanno ecco lì sì glielo puoi fare ma se non vai a votare è inutile che ti lamenti e lo so lo so che non è facile che a volte bisogna votare con il naso tappato o io poi ve lo dico se proprio non volete non mettete la croce da nessuna parte ma andate a votare poi non mettete che è diverso perché un conto è andare e non mettere una croce e quindi finire in quella di dire io su questa scheda non ci vedo nessuno che mi rappresenta ma sono venuto qua a sperare che qualcuno invece mi rappresentasse invece un altro conto è stassene a casa e usare la matita per togliersi le caccole dal naso ecco nel senso non va bene ecco quello quello non va bene quello è poi il problema del me ne frego di tutto quanto e quello ripeto non va bene volevo appunto aggiornarvi proprio in questo istante con i risultati del Fantasaremo ma ahimè non funziona quindi domani lo facciamo prima perché se a quest'ora loro aggiornano i punteggi la fine è che noi ci ritroviamo sempre in questa condizione volevo aggiornarvi anche dicendovi che in realtà la mia posizione è l'ottava posizione in questo momento nella Lega di Crystal Radio quindi ci sono ben otto persone prima di me che stanno facendo miglio di me ma c'è ancora le due serate stasera la serata dei duetti sono molto curioso di sentire la conferenza stampa di oggi quindi io dopo stacco da qui dal nostro studio in Palazzo Francia qui in Via Lemazza e vado in conferenza stampa cercherò di portarvi ancora qualche stralcio come sto facendo in questi giorni perché ricordiamoci che poi dalle 4 alle 5 dalle 16 alle 17 Stefano insieme a Mercalli sono qua su Crystal Radio e vi raccontano il festival di Sanremo e si collegano con me io in una versione collegamento con i box della Formula 1 sono in giro per la città con le mie cuffie e il mio microfono e vi racconto un po' quello che noto vedo e insomma le cose importanti che ci sono in giro andiamo con un po' di musica mettiamo la prima musica la prima canzone non italiana di oggi non arriva da Sanremo lui è Tom Grennan con How Does It Feel 8.41 Minuti Crystal Radio Good Morning Sanremo 331 78 53 555 vi ho detto tutto quello che c'era da dirvi e c'era da sapere quindi adesso musica Tom Grennan How Does It Feel qui su Crystal Radio sempre qua in diretta con Good Morning Sanremo Fanta Sanremo che ancora come vi dicevo non sta andando non funziona nel senso che stanno aggiornando i punteggi quindi facciamo i complimenti ad Adriana che è quella che è in testa della nostra almeno era in testa fino a prima degli aggiornamenti adesso quindi vedremo quegli aggiornamenti come andrà Viola da Milano ti chiedo poi io faccio da traduttore per chi ci sta ascoltando in radio la tua squadra del Fanta Sanremo in che posizione era più o meno fammi con le dita la mano vediamo decima ah decima capito brava sotto il capo bravissima io sono più avanti di te io ottavo e tu decima ma sono bene sono una trentina ormai le squadre che viene dentro nella lega di Crystal Radio fatta da un po' di noi di Crystal Radio molti ascoltatori quindi insomma abbiamo abbiamo di che divertirci in questi giorni vedendo un po' come andrà a finire ripeto questa sera serata delle cover dei duetti io vi invito davvero a tenervi il cellulare vicino e mentre guardate saremo perché io e il collega Alex Pierro ricordiamo presidente di Agimp l'associazione italiana giornalisti critici musicali saremo lì con la nostra sala stramba eh sì perché la sala stampa la sera durante le esibizioni diventa la sala stramba tra qualche ora esce sui nostri profili Instagram ma anche su quello di Crystal Radio la sala stramba di ieri sera erano i vedi mezzo tra la saga del paese il karaoke e il ballo in piazza ok nel momento gente che ballava gente che anche se aveva avuto anche già la prima la prima la defezione chiamiamola così una dietro di me la fila proprio dietro di me si è addormentata proprio è andata giù secca secca bam testa sul testa sul computer proprio giù così che fra un po' di prendere una capocciata pure è andata giù si è addormita almeno 4-5 canzoni di filata che insomma non ne era poco tempo perché ricordiamo che ieri sera hanno cantato in 15 che sono la roba che tu puoi fare in un paio un paio d'ore neanche andando lunghi e invece abbiamo fatto l'1.40 di notte comunque quindi vabbè quella dietro di me boom giù secca testa giù ma poverino con tutti i suoi colleghi che la prendevano in giro mamma mia che brutta figura vabbè comunque e succede anche questo ma lo capisco perché davvero i ritmi i ritmi sono davvero davvero forsennati oggi ovviamente volevo andare invece al villaggio Sanremo che è un luogo dove si può andare vedere scoprire così cosa cosa e infatti piove e quindi non so se ce la faccio andare tramite si sta un attimo schiarando il cielo ma vedo che le pozzanghe per terra sono tempestate di puntini qual è il modo per capire sta piovendo o no perché le gocce non le vedono nel cielo perché è tutto grigio e invece sta piovendo quindi non si va da nessuna parte niente starò qua e poi dopo veniva di essere la stampa di corsa ma Maria prima andiamo a fare colazione voi l'avete già fatta 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 8 e 46 minuti e andiamo con un po' di Moneskin e con la loro Valentine Moneskin con Valentine 8 e 50 minuti allora vi ricordo appunto che adesso stiamo per finire stiamo per andare a casa noi altri ma dopo di noi dopo di noi ci sarà Borgio Curti con senti questa e poi comunque oggi pomeriggio vi ricordo Crystal Hall Sanremo dalle 16 alle 17 in diretta con Stefano qui su Crystal Radio insieme a Mercalli dove raccontano parlano di Sanremo e si collegano anche con il sottoscritto e cerco anche di mandare dei contributi di interesse interviste qualcosa insomma si cerca sempre di fare stiamo cercando anche di raggiungere in qualche maniera d'argento amico per la questione edicole sapete tornando a Milano vi ricordate che qualche notizia qualche settimana fa mi è nata la notizia che Milano è scesa sotto le mille unità ci sono meno di mille di mille edicole alcune stanno chiudendo a marzo ma ci sono e dobbiamo così Dargen a cui ha aperto invece l'edicola l'edicola Dargen questa è a remo vorremmo capire se si possa importare questa bella iniziativa a Milano e magari far sì che non chiudano tutte queste edicole abbiamo parlato di Joliet insieme a Takashi Ketra Shiva e Anna ha fatto Every Day e adesso ce lo andiamo ad ascoltare 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Sanremo qui in diretta da Sanremo con Crystal Radio e oggi però continueremo a parlare di Sanremo perché lo ricordo anche nel pomeriggio Crystal All Sanremo e sono usciti i punteggi del Fanta Sanremo possiamo darveli adesso in diretta e quindi nella Fanta Lega di Crystal Radio abbiamo in prima posizione anzi iniziamo dalla decima abbiamo in decima posizione oh ma te ne veis di Vasco Reggiando poi sembra le cose quelle di Bart quando fai scherzi telefonici comunque ragazzi ma io non posso leggere questi nomi al nono posto c'è la canzone che si chiama oh io le leggo Mango Corcazzo comunque poi all'ottavo posto all'ottavo posto c'è old but gold di una certa ovvio mi sa che è la nostra viola della produzione è vero viola è la nostra producer sì ma sempre dietro alla squadra che vincerà sicuramente poi sul finale che è le perle di Fabio cioè la mia squadra che è al settimo posto abbiamo poi Calibi al Calibi no Calibi al sesto posto di Ormito Ricco Fucsia e poi la Dinamo Cri di Cristina al quinto posto al quarto posto cosa? di Eri B e poi al terzo posto il Team Dargen di Alessia al secondo posto il Signore del Fantasaremo di Frypan e al primo posto Dietodos di Audi Roll cioè il primo posto c'è Dietodos di Adriana poi non so perché ho letto Audi a Odri Odri lol ecco perché e allora appuntamento a no 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 appuntamento a lunedì eh sì appuntamento a lunedì oggi è venerdì godetevi la serata di duetti e domani godetevi la finale noi ci sentiamo lunedì in diretta da Milano ciao a tutti grazie mille Viola per la settimana fatta nella distanza torno sto tornando sto tornando grazie mille